Ma chiedo scusa, ma io con chi sto parlando? Con la Procura della Repubblica? Ma mi dica un poco, ma sto parlando con la Procura della Repubblica. Sul fatto della fiduzione ho già risposto e non mi ripeto. Siamo in IT. Sull'assegno non ho, lei non ha il diritto di chiedermi. Io ho detto che ho staccato un assegno che ha gli atti, ha gli atti dei commissari e dell'amministrazione. No, io non sono in dovere di dover rispondere. Il Presidente parla solo con la Procura, a quanto pare, ma ha dimenticato che tutta, e diciamo tutta la piazza avellinese vorrebbe fare le stesse domande che il collega ha posto in sala stampa a Mauriello. Ed allora cosa vuol dire? Non dare spiegazioni a chi fa sacrificio e ci mette impegno e sudore per seguire le sorti dell'Avellino? La risposta della città per la campagna abbonamenti c'è stata e quindi è giusto dare tutte le spiegazioni necessarie per filo e per segno. Una situazione del genere non si era mai vista prima. Non sono arrivate risposte a tutti coloro se siano interessati all'acquisto del club e si arriva anche a chiedere un confronto pubblico. Si sta giungendo ad un punto di non ritorno. Avellino vuole chiarezza, vuole che De Cesare ci metta la faccia perché il Presidente Mauriello continua a dire che non è tenuto a dare risposte. O forse alla prossima conferenza stampa ci sarà bisogno del procuratore Cantelmo, così magari tutti i tifosi potranno capire per bene cosa sta succedendo. La verità è una sola, non c'è la volontà di cedere e di farsi da parte. Si sta giocando con la storia ed una piazza gloriosa perché poi tutto questo porta alle umiliazioni in campo, vedi il 6-3 con il Catania. Bisogna farsi da parte per il bene dell'Avellino. Chi vuole veramente bene all'Avellino, come dice il Presidente, la dia in mani più sicure. Che sia un imprenditore del nord, del sud o del centro America, il lupo non merita tutto questo. Al peggio, è vero, non c'è mai fine.